Nel giardino dell'Eden dove tu dimoravi prima di intraprendere la tua missione terrena cresceva un albero il cui frutto è chiamato della conoscenza del bene e del male. Durante la tua dimora in quel giardino dell'Eden tu eri completamente impersonale perché non avevi ancora gustato quel frutto ma una volta ceduto al desiderio che è la gente terreno della mia volontà e il cui compito principale è appunto quello di indurti a gustare quel frutto tu appena mangiatolo cadesti ossia fosti costretto ad uscire dal tuo stato Edenico come il pulcino dal guscio e la rosa dal bocciolo e ti trovasti immerso in condizioni del tutto nuove e strane poiché invece d'aver dominio sui regni inferiori e di ricevere da essi quanto ti occorreva ti trovasti a dover coltivare il suolo per ridurlo a produrre a dover insomma guadagnare il pane col sudore della tua fronte ma avendo assunto questa missione terrena era necessario che tu entrassi pienamente nelle condizioni della vita terrena allo scopo di sviluppare una mente e perfezionare un corpo capaci di esprimere la mia idea sulla terra ragione causa reali della tua entrata in tali condizioni essendo caduto o meglio uscito dal tuo stato impersonale Edenico e permettendo ora al desiderio di guidarli tu non eri più capace di vedere la realtà dell'anima delle cose poiché avevi rivestito un corpo fisico un involucro terrestre con un cervello umano che influenzato dal desiderio agiva come un velo sulla coscienza della tua anima ottenebrava la tua vista velava la tua mente in modo che la luce della verità non poteva penetrarvi e ogni cosa era colorata e distorta alla tua umana comprensione e vedevi tutte le cose confusamente come attraverso una nebbia una nebbia che ti impediva di vederle nella loro realtà tu le vedevi solo nella loro nebulosa apparenza che però a te sembrava la loro realtà così avveniva per tutte le cose che vedevi mediante i tuoi occhi fisici cose animate ed inanimate per tutto quanto tu concepivi nella tua mente umana perfino per il tuo sé e per gli altri sé che ti circondavano non scorgendo più l'anima delle cose ma soltanto la loro offuscata apparenza tu veniste a pensare che quelle ombre fossero la vera sostanza e che il mondo intorno a te fosse composto e pieno di tale sostanza ma quella nebbia era solo effetto della luce della verità che non poteva penetrare attraverso la tua mente umana il cui intelletto come una lente imperfetta distorceva ogni cosa e la faceva apparire reale or bene l'intelletto è una creatura del desiderio è completamente dominata da esso e non è come altri suppongono una facoltà dell'anima in altre parole quella nebbia era la torbida lente del tuo intelletto umano che poiché dominato dal desiderio rifletteva e faceva interpretare falsamente alla tua coscienza ogni immagine ogni idea o impulso che io ispirassi dall'interno o attirassi dall'esterno durante il processo del risveglio che operavo nella tua coscienza al riconoscimento della mia idea interna sempre incalzante per esprimersi esteriormente tutto ciò io facevo appositamente per mezzo del desiderio per condurti coscientemente nel cuore delle condizioni terrene mentre questa falsa visione ispirata dal desiderio cagionava molti errori molto travaglio e molta sofferenza tu a poco a poco perdevi la fiducia nel tuo vero sé in me l'uno impersonale interno insomma mi dimenticavi e così non sapevi più dove rivolgerti nella tua impotenza eppure se tu non avessi perduto la memoria del tuo stato divino e concentrata tutta la tua coscienza in queste condizioni terrene io non avrei potuto sviluppare la tua mente la tua volontà umana tutte le tue facoltà e fornire al tuo corpo umano la forza e di poteri che mi avrebbero permesso di esprimere perfettamente sulla terra la mia idea divina e ciò doveva essere così attraverso i tuoi errori le tue pene le tue sofferenze il desiderio di alleviarle fece sorgere nella tua mente l'idea del male e quando queste pene non esistevano più esso ispirò l'idea del bene e a tutte le apparenze di cose e condizioni tu attribuisti le qualità del bene e del male nella misura in cui soddisfacevano o meno il tuo desiderio il mio agente il mio sé umano ossia te nella tua personalità umana ma tutte queste condizioni ed esperienze in cui tu entravi che chiamavi bene se ti piacevano e male se ti spiacevano erano soltanto incidenti creati dal desiderio per suscitare in te certe facoltà dell'anima che ti avrebbero reso capace di riconoscere la verità che io dentro desideravo in quel momento imprimere sulla tua coscienza il male apparente era l'aspetto positivo del frutto dell'albero che sempre ti allettava con il suo bell'aspetto e con la dolcezza del primo assaggio a mangiare godere fino alla sassietà finché i suoi effetti dannosi si manifestassero e divenissero una maledizione a portatrice del disinganno che serviva a farti tornare pieno di umiliazione a me il tuo vero sé che per mezzo della nuova coscienza così risvegliata poteva allora estrarre l'essenza del frutto ed incorporarla nella sostanza e nel tessuto dell'anima il bene apparente era l'aspetto negativo del frutto venuto ad espressione mediante il tuo riconoscimento e la tua obbedienza al suo impulso e che ora ti permetteva di godere i suoi felici effetti naturali e di ricevere i benefici esterni anzi benefici esterni della mia guida e della mia ispirazione piena d'amore ma questo tu che era condotto dal desiderio attraverso tutte queste esperienze era soltanto la tua personalità umana che il tuo reale sviluppava e preparava perché potesse divenire uno strumento perfetto per il tuo uso nell'esprimere la mia idea che sempre cerca di manifestare nella carne la sua perfezione tu facesti tutto ciò non solo costringendo la tua personalità umana a mangiare il frutto del cosiddetto albero della scienza del bene e del male ma costringendolo anche a vivere di esso finché non avessi veduto e conosciuto il cosiddetto male e vivendo con esso tu non avessi scoperto in lui il germe del cosiddetto bene e raccoltolo e sollevatolo non lo avessi rovesciato dall'altro lato in modo che da allora in poi tu sapessi che bene e male non hanno esistenza reale e sono soltanto termini relativi che descrivono condizioni esterne guardate da differenti punti di vista ossia aspetti esteriori differenti di una verità centrale interna la cui realtà appunto è ciò che tu cerchi di conoscere di essere di esprimere così durante le ultime età tu hai per così dire gettato via uno ad uno gli strati della tua coscienza umana dissipando la nebbia e il miraggio creato dall'intelletto intorno alla tua mente soggiogando spiritualizzando e quindi rischiarando l'intelletto stesso finché ora tu cominci ad afferrare per mezzo degli altri strati sempre più sottili qualche barlume di me l'unica grande realtà dentro tutte le cose ma l'onniscente l'impersonale io sono di te ha fatto coscientemente ed intenzionalmente tutto questo non allo scopo di acquistare la sola conoscenza delle condizioni e delle cose terrene come il tuo intelletto ha proclamato a voce così alta e con tanta autorità ma perché tu potessi raccogliere ciò che avevi seminato nelle remote età del passato e manifestare sulla terra la mia perfetta idea come tu la manifesti anche ora nello stato impersonale nella tua casa celeste e tu ricordalo sei il grande io impersonale che fa tutto ciò che muta continuamente l'apparenza esterna ma che dentro è eternamente lo stesso l'infinito succedersi delle stagioni la primavera col suo affaccendato seminare l'estate con la sua calda maturazione l'autunno con la sua opulenta raccolta l'inverno con la sua fredda tranquilla abbondanza anno per anno vita dopo vita succedentisi durante secoli ed epoche innumerevoli sono soltanto l'ispirazione e l'espirazione del respiro della mia idea attraverso la terra e te mio attributo e tutti gli altri miei attributi durante il processo di manifestazione del mio sacro intento sì io faccio questo attraverso di te perché tu sei parte di me perché solo attraverso te mio attributo io posso esprimere me stesso io posso essere io sono perché tu sei tu sei perché io esprimo me stesso io sono in te come la quercia è nella ghianda tu sei me come il raggio solare è il sole sei una fase della mia espressione tu uno dei miei divini attributi cerchi eternamente di esprimere la mia perfezione per mezzo della tua personalità mortale precisamente come l'artista vede nella sua mente l'immagine perfetta che vuole dipingere ma la sua mano non può riprodurre completamente con i roggi strumenti del pennello e dei colori le qualità e gli effetti che gli vede così tu mi vedi nel tuo sé e sai che noi siamo uno ma sei sempre ostacolato ad esprimermi perfettamente dall'imperfezione del materiale terreno di cui è composta la tua personalità umana con il suo corpo animale la sua mente mortale il suo egoistico intelletto eppure io creai il tuo corpo la tua mente il tuo intelletto allo scopo di esprimere me stesso per mezzo tuo feci il tuo corpo ad immagine della mia perfezione la mente ti diedi perché tu conoscessi me e le mie opere ti diedi l'intelletto perché tu interpretassi la mia idea che io ispirai alla tua mente ma tu sei stato così distratto dalle fasi umane di questo corpo di questo corpo di questa mente di questo intelletto e dei loro usi esteriori che hai dimenticato me l'una ed unica realtà interna la cui natura divina io cerco sempre di esprimere a te per mezzo tuo ma il tempo si avvicina in cui gli usi esteriori non ti distrarranno più e in cui la mia realtà ti sarà rivelata in tutto lo splendore della sua perfezione dentro di te ma tu allorché io rivelerò così in me stesso non sarai più felice di prima se ciò che ti avrò non diverrà pane di vita per te se non vivrai e non manifesterai la vita che esso rivela